Ho cominciato a scrivere poesia negli anni cinquanta, precisamente una data molto precisa che è il gennaio del cinquantuno, avevo appena compiuto vent'anni perché ero nato in dicembre. La mia intenzione era veramente di riprendere le pulsioni, gli stimoli dell'avanguardia, non per replicare quello che era stato il movimento delle grandi avanguardie storiche, ma per trovare in qualche maniera un equivalente di quella che era stata questa grande forza di rottura e di protesta, diciamo di sciopero nei confronti della professione letteraria, perché in fondo si voleva fare della non poesia o dell'antipoesia, come si faceva dell'antipittura, dell'antiromante e via dicendo. Questo era allora in Italia e non solo in Italia in fondo qualcosa di molto isolato. La pittura e la musica, per tante ragioni che sarebbe lungo da scrivere, avevano conservato una forte tensione di ricerca comunque, anche negli anni bui del ritorno all'ordine e del dominio dell'epoca fascista e nazista in Europa. Sul terreno della letteratura le cose erano andate molto meno bene, c'era stata nettamente una spinta conservatrice che aveva dominato, una sorta di neoclassicismo che poi l'ermetismo da noi ha incarnato molto bene. Da allora in poi ho sempre cercato di sviluppare posizioni da vanguardia, naturalmente queste sono molto mutate nel tempo, anche nel giro delle prime tre opere che poi raccorsi insieme e che pensavo come una sorta di trittico, non a caso si intitola Tri per uno, i tre libri che io scrissi tra gli anni 50 e inizio degli anni 60 sono già molto diversi l'uno dall'altro, il primo è un libro assolutamente astratto di scrittura iper intellettuale, il secondo corrispondente in qualche modo alla musica tonale o alla pittura non figurativa, il secondo invece punta molto sull'onirico, il terzo cerca di investire direttamente l'esperienza quotidiana e tende a una sorta di prosaicità narrativa, quasi una specie di diario sia pure in modalità molto particolari e vissuto molto attraverso una sorta di ripensamento in terza persona. Poi comincia l'epoca in cui il dominante è già implicito per certi riguardi in queste tre opere, soprattutto nella terza, in cui il tema del viaggio diventa un tema fondamentale, una sorta di media di discorso molto abbassato tendente al quotidiano, all'apparentemente più che sostanzialmente diaristico, dove Dio si frantuma in vicende che sono di frantumazione e nello spazio e nel tempo, finché da ultimo quello che mi interessava è una sorta di poesia che io chiamo comica, puntata molto sul degrado, proprio un discorso che spesso tende all'osceno, al volgare e al risibile, è un comico un po' nell'accezione medievale della parola, cioè un grado basso e degradato di scrittura. Per me la continuità sta proprio in questo, ogni volta di tentare quello che era, di risollevare quello che portesse a rispondere, in modo spero autentico, al grande lamento della crisi già delle avanguardie storiche, quando si diceva che non è più possibile scandalizzare nessuno, non si può più produrre qualcosa di veramente alternativo, o se si vuole rivoluzionario, la rivolta è chiusa. Per parte mia io cerco di mantenere questo spirito di rivolta e se possibile di rivoluzione, questo credo sia il compito attuale della poesia e da quello che dico risulta che, parlo del programma, poi tocca naturalmente a chi legge decidere se la cosa è riuscita o non è riuscita, è quello di combattere il clima attuale ecodominante, che invece è estremamente piatto, se lo guardiamo con una sorta di encefalogramma che rispecchia anche una realtà, che è quella vissuta per molta parte dalle generazioni intermedie. Grazie.